Ciao a tutti e benvenuti su Popcorn, la rubrica che tira fuori dalla busta tutte le notizie più croccanti della giornata. L'altro giorno vi ho parlato di Me and My Shadow, un film destinato a finire nel dimenticatoio, ha poi ripescato ed affidato ad un nuovo regista. Un altro film che sembra condividere questa sorte è il Biopic. Biopic. Non lo so, praticamente il film sulla vita di Freddie Mercury. Dopo che Sasha Baron Cohen ed il regista Dexter Fletcher avevano abbandonato il progetto per divergenze artistiche con i membri dei Queen ancora in vita, sembrava tutto perduto per questo film. Ma la J.K. Films non si dà per vinta ed ha assunto un nuovo sceneggiatore. Anthony McCartney, premio Oscar per La teoria del tutto. Che bello quel film! Per la parte di Freddie invece il favorito rimane Ben Whishaw, che abbiamo recentemente visto in spectra e vedremo nei prossimi mesi in The Danish Girl, Sufragette and the Heart of the Sea. Novi indiscrezioni anche sul probabile titolo di questo film, che a quanto pare sarà preso da una delle canzoni più famose dei Queens, Bohemian Rhapsody. Per sapere se questo film si farà o non si farà, voi dovete fare una cosa e basta, seguire Screen Week e iscrivervi al canale. Io sono Serena Maccialatti e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao!